Chi ha deciso il match, chi ha deciso il derby qui al Dei Marsi, ma soprattutto con chi probabilmente deciderà una stagione, Costa Ferreira, un gol importante con i risultati di Campobasso e San Benedettese che vi fanno recuperare ulteriori due punti. Sì, un risultato assolutamente importante che ci dà ulteriore fiducia perché siamo in un trend positivo, ci ha permesso comunque di accorciare la classifica e mancano ancora cinque partite quindi lutteremo fino alla fine per il primo posto. Ci ha provato l'Aquila soprattutto nel primo tempo, vero, dalla distanza con i mancini di Angiulli e Banegas, poi la sorte ha deciso che l'uomo col piede destro buono abbia deciso appunto questo match. Sono segni del destino, addirittura con Campobasso che negli stessi minuti ha fallito il calcio di rigore che poteva portare alla vittoria. Sì, diciamo che l'Avezzano si è chiuso bene, non ci ha permesso di entrare in aria, di fare le nostre giocate che facciamo di solito, quindi solo dalla distanza potevamo provarci. Sinceramente non me l'aspettavo manco io di segnare perché comunque ero entrato dalla panchina e il risultato comunque era bloccato sul 0-0, ormai le squadre forse si erano anche accontentate, quindi va bene così e continueremo così. Ascolta, ora ovviamente ho chiesto al mister, ci vuole la testa giusta, non farsi prendere troppo dall'entusiasmo, rimanere sul pezzo e concentrati, però lo possiamo dire tranquillamente Pedro, qualche settimana fa qualcuno cominciava già a pensare alla stagione futura, alla prossima, e invece nell'arco di due settimane si è riaperto tutto. Diciamo che fa parte del gioco, quando perdi la gente vede tutto nero, tutto negativo e siamo tutti scarsi, però ecco la squadra comunque è da qualche mese da questa parte che è una squadra vera in campo, nel senso che riesce a mettere sotto gli avversari, riesce a creare, a volte gli episodi si assora, magari con l'Atletico Ascol ci sono andati contro, ultimamente ci stanno andando a favore, comunque ci stanno andando a cercare gli episodi positivi, però ecco siamo vivi, soprattutto questo è un grande gruppo perché soprattutto la gente che è entrata dalla panchina, anche oggi come Del Moro, come Mantini, è gente che sta sul pezzo e quindi se siamo questi andremo fino in fondo. Ora c'è la pausa pasquale, ovviamente buone feste a te, ai tuoi compagni, alla società, cosa ti aspetti all'Aquila quando arriverà la San Benedettese? Perché sarà un ambiente caldissimo pronto a supportarvi per questa ultima volata stagionale. Intanto mi aspetto lo stadio stra pieno, non pieno, stra pieno perché veniamo da una serie di risultati importanti, dalla vittoria dei derby e quindi i tifosi sanno che ci aspettano una battaglia con la San Benedettese, una delle favorite per vincere il campionato, uno scontro di rete e quindi abbiamo bisogno del loro appoggio. Ascoltami Pedro, hai esultato ovviamente, senza mancare di rispetto, immagino alla tua ex squadra. Vuoi lanciare un messaggio agli Avezzanesi dopo questo gol che per te ovviamente è importante e fondamentale? Sì, sì, assolutamente sì, io non ho mancato di rispetto a nessuno, anzi io penso di essere stato un professionista sia ad Avezzano che adesso qua all'Aquila. Ringrazio il presidente Pecorella all'inizio stagione che mi ha dato fiducia ai tifosi, ai miei ex compagni, mi sono stati sempre vicino, ci sentiamo tuttora, siamo amici, quindi fa parte del calcio, il gol purtroppo è andato a sfavore loro. Però ecco, ci godiamo questa soddisfazione e continueremo così. Domanda banalissima, preferisci subentrare, segnare gol decisivi o partire dal primo minuto? No, che sia meglio giocare comunque dal primo minuto. E segnare ugualmente. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.